Passiamo alla questione 14 e in particolare si farà riferimento alla scienza di Dio e ci si chiederà ma in Dio c'è scienza? Allora innanzitutto un'introduzione. Abbiamo esaurito tutto quello che si poteva dire sulla natura divina, adesso si passa a quello che noi definiamo impropriamente operazione perché l'operazione nella creatura implica un movimento che sia una operazione fisica, quella di spaccar legna, che sia un'operazione intellettiva, cioè quella di acquisire conoscenza attraverso l'intelletto attivo che astrae e si arricchisce presentando queste forme all'intelletto passivo. Quindi bisognerà innanzitutto valutare in che cosa consiste la scienza in Dio. Io adesso non sto qui a definire i singoli vocaboli che vedremo nello specifico. Poi la volontà, la potenza, la vita divina e poiché la scienza per oggetto il vero, dovremmo indagare anche in che cosa noi intendiamo per verità o falsità. Spesso ci si dovrebbe chiedere, prima di iniziare qualsiasi confronto, che cosa intendo io per verità? E allora probabilmente i confronti pseudo-democratici di oggi potrebbero anche approdare a qualche cosa, perché è inutile, e continuerò a ripeterlo all'infinito, confrontarsi su determinati problemi, ma il problema implica una soluzione. E allora se ci si limita a discutere, a parlare, a confrontarsi dal spettacolo e molto spesso a litigare, noi non risolviamo come problema. Quindi innanzitutto perché ci sia un confronto è necessario un denominatore comune e questo denominatore comune ci può essere dato solo dalla verità. Accettare quindi ciò che è vero e respingere ciò che è falso. E poi dato che il vero e il falso sono legati, la falsità e la verità sono legate alle idee, bisognerà definire cosa sono le idee. Allora, nella questione 14 si prenderà in esame che cosa sia la scienza in Dio. Allora, io ricordo una cosa anche per non essere poi tacciato di plagio, perché mi pare che sarebbe opportuno chiarirla questa cosa, altrimenti io mi servo di quest'opera sulla summa teologica di Tommaso d'Aquino e ci sono delle traduzioni, ci sono dei commenti, anche le traduzioni di padre Antonino Balducci e l'introduzione e le note di padre Marco Lino D'Affara. Perciò tante cose le scrivo io, quelle tra parentesi, tutto quello che voi sentite qui a voce è mio prodotto, ma altri riferimenti sono colti da questo libro, altri e invece li rielavoro. È un'opera essenziale per chi volesse conoscere la summa teologica. Allora, cominciamo. Sembra che in Dio non vi sia scienza. Beh, innanzitutto dobbiamo capire che cosa noi intendiamo per scienza, perché oggi con scienza, se non c'è la matematica di dentro, se non ci sono le formule, non è scienza. Basta che ci sia qualche formula, qualche osservazione, molto spesso osservazioni taroccate, allora si spacciano delle pseudo verità per scienza. La scienza è qualcosa invece di molto più vasto che diventa fondamento delle singole discipline, quale può essere la fisica, la chimica, la matematica, la psicologia, eccetera. E la fisica, nella prospettiva aristotelico-tomista, è definita così. Conoscenza intellettiva, quindi non è solamente sensitiva, anche se è evidente che l'intelletto parte da delle conoscenze che ci offrono i sensi, almeno per gli uomini è così, per gli sensi e poi attraverso la riflessione, attraverso il rapporto delle conoscenze che hanno arricchito il nostro intelletto, attraverso quei principi di somiglianza, di non contraddizione, eccetera, si arriva a una conoscenza che deve essere dimostrata con certezza attraverso un ragionamento stringente, quindi non fatto di parole, non è un insieme di una cozzaglia di riflessioni tra virgolette buttate lì, campate lì in aria, è un ragionamento stringente che parte dalla conoscenza intellettiva che a sua volta si fonda sulla conoscenza sensitiva. Allora, qualcuno pensa che in Dio non vi sia scienza, come mai? La scienza è un abitus e questo, essendo tra la potenza e l'atto, non compete a Dio, dunque non vi è scienza in Dio. Allora, dobbiamo cercare di capire che cosa si intende per abitus e l'abitus ci pone nella condizione di constatare che intrinsecamente è una composizione di potenza e atto. Adesso leggiamo il commento. Una parte di questo commento l'ho estrapulato proprio dal testo di cui vi ho detto. La scienza in noi creature è una disposizione interiore e stabile dell'intelletto. Lo scienziato è chi ricerca. Lo scienziato, innanzitutto, bisogna avere lo spirito di scienziato e quindi porsi in questa tensione di ricerca. Ma lo scienziato non possiede già la verità. Quindi il suo intelletto è in uno stato potenziale. Poi attraverso le conoscenze, attraverso la sperimentazione, attraverso il prova e riprova di Galilei si arriva a delle formule che vengono attualizzate e che portano quella potenzialità all'atto. Ma il fatto che la potenzialità sia portata all'atto si aprono nuove prospettive di conoscenza. Anche la fisica di oggi si pone in questi termini. La fisica di oggi ha scoperto tantissime verità o sembra di averle scoperte perché poi molto spesso queste verità vengono riviste e allo stesso tempo si aprono nuovi interrogativi. Quindi è tutto un rapporto di potenza e atto. Le scienziato di noi creaturano a disposizione interiore e stabili dell'intelletto proveniente dal fatto che esso è in possesso dei principi oggettivi del conoscere in forza dei quali l'uomo può passare dall'atto di intellezione quando vuole senza difficoltà. Cosa sono i principi oggettivi del conoscere? Beh, è tutto quello che noi riusciamo ad immagazzinare attraverso l'esperienza. Per cui noi colliamo delle forme attraverso l'opera astrattiva dell'intelletto e poi abbiamo dei principi che sono evidenti di per sé, il principio che ci dà l'esistenza, il principio che ci pone, che ci dà la relazione tra determinati enti, tutto quello che gira attorno alla quantità, la qualità, insomma, noi abbiamo questi principi. Ecco, l'intelletto poi può mettere in rapporto questi principi e arrivare attraverso quel ragionamento stringente a delle conoscenze certe. In noi la facoltà intellettiva, analogamente alle altre facoltà, si può considerare in tre stati. E' dapprima in pura potenza a conoscere, ecco, lo scienziato che inizia la ricerca. Ma quando nell'uomo di scienza possiede questa pura potenza, quelle intrinseche disposizioni di cui si è parlato, non è più in pura potenza, ma in potenza prossima all'atto. Quando io finalmente riesco a definire una legge, se vogliamo sempre porci nella prospettiva della nuova scienza di Galilei, e a un certo punto, quando riesco finalmente a definire una formula, beh, sono arrivato al lato. La mia ricerca ha raggiunto una conclusione, ha raggiunto un risultato. Questa condizione costituisce ciò che gli scolastici chiamano habitus, l'habitus dello scienziato. Ma voi capite che questo habitus è composto di potenze di atto. Si ha infine l'atto puro, semplice, della scienza, quando l'intelletto sta considerando gli oggetti della scienza. Gli scolastici chiamano questi tre stati potenza, atto primo e atto secondo. In ogni modo, al di là di queste distinzioni, voi capite che l'habitus dello scienziato è fatto di potenza e di atto. E ma allora come possiamo applicare il termine scienza a Dio? Allora Dio è composto di potenza, ma noi abbiamo visto che la natura divina non è in un stato di potenza, quindi Dio non conosce. A Dio non compete la predicazione di scienza. Risposta. Siccome le perfezioni derivate da Dio nelle cose, in Dio sono in grado più elevato, come è stato spiegato, e qui si fa riferimento, è necessario tutte le volte che si attribuisce a Dio un nome tratto dalle perfezioni delle creature che si è escluso dal suo significato tutto ciò che risente del modo imperfetto della propria creatura. L'abbiamo detto, ripetuto più volte, noi di Dio non abbiamo una conoscenza perfetta, ma conosciamo Dio attraverso il creato. Ora, e poi naturalmente nella prospettiva teologica attraverso anche la rivelazione dei testi sacri, perché qui non stiamo facendo solamente filosofia. Quindi, visto che la natura divina è stata già definita, visto che abbiamo conosciuto con molta chiarezza che in Dio non esiste potenza, non esiste materia, allora dobbiamo togliere nella prospettiva in cui si vuole definire la scienza in Dio tutto ciò che appartiene alla creatura e non all'uomo. Perciò la scienza in Dio non è qualità o abito, non è qualcosa che diviene, non è potenza che passa all'atto, ma sostanza e atto puro. Ecco di nuovo, vi ricordate, noi siamo abituati con il nostro intelletto a conoscere Dio parzialmente, perché non abbiamo la capacità di unificare il tutto. Siamo in una situazione di squaternamento, di esplicazio, l'implicazio divina, forse un giorno, potrà essere oggetto della nostra conoscenza, ma non certamente fino a quando siamo appesantiti dalla materia. Quindi, la scienza in Dio c'è, ma non è da intendere come abitus alla maniera che la intendiamo noi. E come la dobbiamo intendere? Beh, vediamo, facciamo un passo per volta. Andiamo all'argomento secondo. La scienza ha per oggetto le conclusioni. Non c'è dubbio, se io mi limitassi solamente a cercare, 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 beh, tanto di cappello per chi si pone in questa prospettiva, però alla fine la mia ricerca sarebbe abbastanza sterile. La scienza ha bisogno di conclusioni, altrimenti la ricerca rimane tale e non arriva e non approda mai a nulla. Quindi è una conoscenza causata dal di fuori. Eh, abbiamo detto più di una volta che non c'è conoscenza, non siamo nella prospettiva di Platone che riscopre in sé le idee contemplate negli perurani. Non siamo nell'ante REM, siamo nel post REM. Quindi tutte le conoscenze ci arrivano dal di fuori, vengono valutate e quindi la conoscenza è qualcosa che implica, presuppone necessariamente una realtà. Ora in via non vi è niente di causato. Vediamo la risposta che mi pare evidente. abbiamo già visto che quanto nelle creature è frazionato e molteplice, si ritrova in Dio in modo semplice e indiviso. E qui abbiamo visto la questione 13, articolo 4. Ora l'uomo ha diverse conoscenze secondo la diversità degli oggetti in quanto intuisce i principi. Mario esiste, quindi intuisco l'essere di Mario. Si dice che ha intelligenza in quanto conosce le conclusioni. Può permettersi di mettere assieme i vari rapporti, le varie qualità, i vari movimenti e le varie relazioni. Ma questo è un'attività tipica dell'intelligenza e quindi gli si attribuisce poi la scienza quando arriva a delle conclusioni. Gli si attribuisce anche la sapienza in quanto conosce le cause supreme, consiglio e prudenza in quanto conosce le azioni da compiere. Ma Dio conosce tutte queste cose con una sola e semplice condizione. In questo senso è detto in Giobbe, in lui è la sapienza e la fortezza, egli possiede consiglio e intelligenza. Quindi siamo di nuovo a fare riferimento a quello che abbiamo già dimostrato, che Tommaso ha già dimostrato. Non c'è una conoscenza causata dal di fuori perché in Dio non c'è un fuori e un dentro. C'è l'unità che abbiamo già considerato negli articoli precedenti. Terzo, ogni scienza è universale o particolare? Ora in Dio, come abbiamo dimostrato, non si dà né universale né particolare. Questa è la questione 13, articolo 9. La scienza si uniforma al modo di essere del soggetto conoscente. Siamo sempre alla stessa risposta. Quando noi parliamo di individuale universale, ci poniamo nella prospettiva della creatura. Attenzione che nel momento stesso in cui vogliamo intuire anche solo per analogia la posizione di Dio, le cose cambiano. Siccome il modo di essere di Dio è più alto del modo di essere della creatura, la scienza divina non ha le modalità della scienza creata, cioè a dire non è universale o particolare. Quindi questi attributi non le convengono. Non vale neanche la pena di valutarli perché abbiamo visto nelle dimostrazioni precedenti come deve essere concepita l'essenza divina. detto questo abbiamo il secconta, l'apostolo, Romani 11, 33, dice ho altezza delle ricchezze della sapienza e della scienza di Dio. Quindi in Dio c'è scienza. Vediamo il rispondeo. In Dio vi è scienza allo stato perfettissimo. Gli esseri conoscitivi si distinguono dagli esseri non conoscitivi in questo, che i non conoscitivi non hanno che la propria forma, mentre quelli dotati di conoscimento sono fatti per avere anche la forma delle altre cose. Conoscere. La forma di un pino è una forma tutta vegetativa, è un'anima vegetativa che non è destinata a conoscere. Attenzione che conoscere vuol dire non semplicemente subire delle sensazioni, ma conoscere vuol dire essere consapevoli, vuol dire avere la capacità di intendere, perché se no, se ci limitiamo alla sensazione anche gli animali conoscono. Gli animali utilizzano l'istinto e l'istinto li guida. Conoscere è la capacità di astrarre, la capacità di calcolare, la capacità di mettere assieme delle forme, di valutare, l'abbiamo già detto, dei rapporti, delle relazioni. La conoscenza è questa. Ora, degli enti che noi troviamo attorno a noi, un pezzo di pietra, un pezzo di legno, ma anche un vegetale vivo, o una formica, o una pulce, non hanno la capacità conoscitiva. Noi ce l'abbiamo. Per tale motivo il filosofo dice che l'anima è in certo modo tutte le cose. Qui è molto importante, mi pare qui, di aver riportato in toto il pensiero del commentatore. Ritornerò spesso a ripetere questa posizione perché non vorrei mai che alla fine di questo lavoro mi si venisse a dire che io ho commesso un plagio. Io sto utilizzando quest'opera, mi pare, in 33 volumi della Suma Teologica, che mi era già servita per preparare la mia tesi. Qui, giustamente, il commentatore dice che qui è messa in evidenza la natura specifica del conoscere. La natura specifica del conoscere, nella posizione tomista e aristotelica, è quella di fare propria una forma. Per cui l'intelletto non differisce neanche più da questa forma acquisita. è come uno specchio, uno specchio che riflette e queste conoscenze vengono acquisite e vengono accolte dall'intelletto passivo. E questo tutt'uno permette, ecco, il realismo di Tommaso, permette di conoscere la realtà che ci circonda. Negli ultimi due secoli, secolo e mezzo, sono state messe in discussione questi principi. E' stato messo in discussione il realismo, ma già da Kant, no? Noi non conosceremo mai il noumeno, noi possiamo conoscere solamente degli effetti, che poi non si possono chiamare neanche effetti, perché a causa effetto sono delle categorie. E quindi, insomma, lì poi vengono fuori tutti i problemi kantiani, perché partendo da certe posizioni, poi chiaramente... Ma è anche vero che, quello che sostiene sempre mio figlio, non ci si intende, una la pensa in una maniera, l'altra la pensa in un'altra, ma io continuo ad insistere sul fatto, e ce lo insegna Tommaso, che non ci si intende, perché non si mettono chiaramente sotto attenzione e come punti di riferimento, usando proprio il buonsenso e una bussola assieme ad una clessidra, quali sono i termini e quali sono le definizioni dei vari concetti. Perché poi c'è qualcuno che deliberatamente, per portare confusione e per tirare acqua al proprio mulino, li ho visti qui, i primi confronti, poi mi pare che i più si sono arresi e sono migrati in altri canali e non mi hanno più disturbato, c'è proprio un atteggiamento incapace di confrontarsi. Si passa da un argomento all'altro argomento, all'altro argomento, all'altro argomento, all'altro argomento, io cerco sempre di rispondere fino a che si arriva, si fa tutto il giro e si ricomincia nuovamente da capo. Cioè io ascolto chi, alla maniera di Tommaso, alla maniera di Aristotele, alla maniera di chi conosce la filosofia, io cerco di ascoltare chi mi pone delle... chi contesta, chi può contestare il mio pensiero, però l'altro non ascolta la mia risposta. E allora, se noi non ci... oppure si affrontano 50 problemi contemporaneamente, un argomento si affronta in modo equilibrato, attraverso un'analisi che viene a proprio questo termine, analitica dei singoli problemi per poi arrivare alla sintesi. Cioè è un metodo quello che si esige, quello che non insegna più la scuola. Qui vedete che la cosa assume una dimensione didattica, filosofica, pedagogica, tipicamente legata al nostro tempo, dove si vuole tutto e subito, chi mai come Dante o come Petrarca o come Manzoni spende 10, 20, 30, 40 anni della propria vita per costruire un'opera. No, bisogna sfornare subito tutto, bisogna fare spettacolo. Ora, qui stiamo su un'altra prospettiva. Perciò, in questa mirabile attività non avviene una composizione fisica. Non è che come nel caffè-latte, io metto un po' di caffè e un po' di latte, quindi io conosco Paolo o Andrea, non è che queste forme entrano dentro di me e si uniscono e fanno un minestrone. No, queste vengono accolte dall'intelletto passivo e vengono accolte per quello che sono e poi vengono messe in quel rapporto di cui ho già parlato. dando origine a un prodotto diverso di due componenti, ma avviene una composizione di ordine superiore per cui uno dei componenti, l'intelletto, diventa l'altro, l'oggetto presente per la specie, arricchendosi il nostro intelletto, più ha la possibilità di conoscere, più si arricchisce della perfezione di questa, senza alterarlo. Ogni forma ha la sua perfezione, ogni forma in sé è perfetta. Quindi se io conosco la forma, che ne so, che in forma la materia fa diventare la materia prima formica, o pulce, o pino, o abete rosso, o abete nero, o strobus, ebbene io accogliendo queste forme mi arricchisco. Poi sarà il compito dell'intelligenza mettere in rapporto e trovare delle relazioni. Quindi io non altero la forma, vivendolo conoscitivamente, così uno specchio, ecco qui l'esempio, con una similitudine, così uno specchio tersissimo, attenzione, è importante questo tersissimo, non uno specchio macchiato, non uno specchio vecchio, non uno specchio appannato, nel quale si riflette un oggetto colorato, diventa quel medesimo oggetto colorato, sicché chi guarda vede non lo specchio, ma l'immagine di quello. Quindi questo è il compito dell'anima. Ma la limitazione della forma viene dalla materia. E' dunque evidente che la perfezione del conoscere dipende dal grado di immaterialità. Noi abbiamo detto che proprio perché siamo immersi nella materia non possiamo sempre conoscere in modo perfetto, meno si è legati alla materia, ecco perché il mistico per un momento riesce ad uscire dal suo corpo e a cogliere a pieno o in parte la verità, in modo più sublime, ecco perché l'angelo che è privo di materia, riesce a cogliere e contemplare delettamente l'essenza divina, ecco, più siamo slegati da questa materia, più noi possiamo conoscere. Ma Dio per eccellenza è slegato dalla materia perché non c'è nulla di potenzialità. Quindi a Lui compete in modo maggiore e perfetto il termine scienza, la predicazione di scienza. Per questo Aristotele dice che le piante non sono dotate di conoscenza a causa della loro materialità. Quindi essendo Dio nel sommo grado di materialità, abbiamo visto la questione 7, ne viene che Egli sia all'apice del conoscere. Andiamo all'articolo 2. che Dio sembra che Dio non conosca se stesso. Già per me è qui, però giustamente Tommaso vuole chiarire ogni tipo di obiezione perché è chiaro che se Dio abbiamo concluso nell'articolo 1 è all'apice della conoscenza è evidente che conosce anche se stesso. Però ci può essere una di queste obiezioni che Tommaso cerca di chiarire. Nel libro De Causis si dice che ogni essere conoscitivo nell'intendere la propria essenza ritorna completamente sopra se stesso. Quindi vuol dire che esce da se stesso per ritornare su se stesso. Io non posso conoscere me stesso se non esco da me stesso. Perché non siamo in una prospettiva platonica? Per Platone è il contrario. Torni te stesso. Lo dice anche Seneca. Non uscire da te stesso. Ritrova te stesso. Vedrai che in te stesso troverai la verità. Così era l'arte maieutica di Socrate che aiutava come una levatrice il discente a partorire la verità di cui era già in possesso. Per Tommaso e Aristotele non è così. Quindi per conoscere, anche per conoscere se stessi bisogna uscire da se stessi. Ora, Dio non può uscire da se stesso. Ora Dio non esce dalla propria essenza né si muove in modo alcune. Così non gli compete il ritorno sopra se stesso. Dunque Dio non conosce. Vediamo la risposta. E qui è una cosa un pochettino complessa se si vuole affrontare in modo esauriente. Ritornare sopra se stesso. Altro non significa che una cosa sussiste in sé medesima. Poi vedrò di chiarire anche questo pensiero. In quanto perfeziona la materia comunicandole l'essere. si espande in qualche maniera su di essa la forma ponendosi a formare a definire la materia prima è come se uscisse da se stessa per formare la materia prima. mentre invece in quanto ha l'essere in sé stessa torna in sé medesima. Ecco perché le potenze conoscitive che non sono sussistenti ma che attuano qualche organo non conoscono se stesse come è evidente nel caso dei nostri vari sensi. noi non siamo sussistenti. Abbiamo la potenza conoscitiva ma non siamo sussistenti. Quindi per conoscere abbiamo bisogno di una materia per cui usciamo nella forma per dare una forma appunto alla materia la materia che ci permette attraverso i sensi di uscire da noi stessi conoscere ciò che ci circonda e arricchirci come abbiamo detto prima conoscendo alla fine in modo adeguato anche noi stessi. Quindi dobbiamo la forma in noi esce per poi rientrare. Le potenze conoscitive per sé sussistenti gli angeli invece conoscono se stesse senza bisogno dei sensi. Per questo è scritto nel libro De Causis che chi conosce la propria essenza ritorna sopra se stesse e questo è il senso il significato una forma che ha bisogno della materia prima per realizzare la presenza dei sensi i sensi colgono il creato il creato torna in sé e l'intelletto attivo sembra quasi di vedere il bimbo no? Il bimbo cosa conosce? Niente ma è attraverso i suoi sensi attraverso sempre questa esperienza che lentamente conosce il mondo e conoscendo il mondo poi alla fine conosce se stesso ora sussistere per sé compete soprattutto a Dio come appunto le potenze conoscitive per sé sussistenti perché Dio non è materia Dio non è una forma che ha bisogno di modellare una materia prima sussiste in sé per cui senza bisogno di uscire da se stesso conosce se stesso vediamo una riflessione a questo proposito il moto attenzione moto che non è solamente un movimento fisico moto viene anche considerato un movimento e anche il divenire è un moto la nostra conoscenza che esce e rientra il moto o divenire in senso stretto è definito da Aristote l'attualità di un ente imperfetto il moto io vado a quella meta devo andare a che ne so Palermo è un'attualità il moto una volta che sono arrivato a Palermo di un ente imperfetto perché fin quando non ci sono arrivato sono ancora in uno stato di potenzialità infatti nell'ente che sta muovendosi c'è un'attualità che non si trova nel medesimo ente quando è privo di quel moto ma appunto perché è sottoposto al moto un ente mostra la sua imperfezione perché se io non fossi imperfetto non avrei bisogno del moto se io non fossi condizionato dallo spazio non avrei bisogno di passare da Venezia a Milano perché sta muovendosi al possesso della perfezione di cui è privo stessa cosa capita per la conoscenza un moto è predicato in una prospettiva di analogia ma pur sempre un moto un moto dell'intelletto che si pone in un rapporto particolare con l'oggetto per conoscerlo per poi rientrare no? è chiaro che non converrebbe a Dio di intendere perché introdurrebbe in lui una grave imperfezione perché se deve uscire per intendere vuol dire che potenzialmente non è in atto e noi abbiamo già detto che nella natura divina nulla è potenziale e tutto è in atto l'attualità dell'intendere si può chiamare moto perché il moto è anch'esso una certa attualità ma mentre il moto è attualità di un ente imperfetto l'abbiamo detto intendere è a qualità di un ente perfetto che possiede di già la propria perfezione e non ha da attendere ad essa l'intendere non solo non dice a Dio ma gli conviene in grado massimo anche se impropriamente lo designiamo col termine moto mi pare che sia chiaro nel momento in cui noi abbiamo inteso beh in quel momento noi abbiamo raggiunto attenzione che io ho valutato il moto in due prospettive il moto il movimento reale parto e vado a Palermo e l'altro nel movimento dell'intelligere allora nel secondo movimento io dimostro di essere imperfetto e mi trovo nella potenzialità di ricercare ma nel momento in cui io ho inteso ho capito e posso dire possiedo quella che viene definita scienza ecco in quel momento noi abbiamo almeno per quell'argomento esaurito la potenzialità e possediamo l'atto dato però che Dio è l'eterno presente l'abbiamo visto nella sua natura e la forma e l'essenza che implica l'esistenza è la forma che non ha bisogno di materia dunque l'intendere in Dio è un intendere al massimo grado e quindi gli conviene perfettamente dunque abbiamo visto il conoscere è una specie di passività e di moto non c'è solo il moto ma c'è anche la passività perché se noi intendiamo innanzitutto funziona l'intelletto attivo ma poi tutto ciò che viene colto dall'intelletto attivo viene presentato all'intelletto passivo quindi c'è una passività e abbiamo visto lo stesso intelletto attivo pur essendo attivo si comporta come uno specchio quindi riceve determinate immagini come dice Aristotele la scienza stessa è un diventare simile all'oggetto e l'oggetto conosciuto è un perfezionamento di colui che conosce l'abbiamo visto prima ora niente può essere trasformato subire l'azione o essere perfezionato da se stesso né può essere la somiglianza di sé come nota Sant'Ilario il discorso è molto semplice se io per conoscere e per conoscere me stesso perché il principio è sempre questo che Dio non conosca se stesso io ho bisogno di uscire da me ho bisogno di ricevere determinate forme che non possiedo c'è una passività c'è una imperfezione perché tendo alla perfezione e quindi come posso predicare questa conoscenza di sé a Dio la risposta è abbastanza chiara l'intelletto è perfezionato dall'oggetto intellegibile e ne prende la somiglianza se si tratta di un intelletto che da loro è in potenza ma l'intelletto divino che in nessun modo è in potenza non viene perfezionato da un oggetto intellegibile ma è la sua propria perfezione ed è il proprio l'intellegibile anzi è proprio l'essenza divina che genera attraverso un atto di creazione le varie forme quindi le forme che sono presenti in questo mondo nella materia preesistono in Dio Dio non ha bisogno di queste conoscenze non ha bisogno di astrarre le forme non ha bisogno di riceverle in un intelletto passivo perché è lui il creatore di queste stesse forme andiamo all'altro ancora 3 dice Agostino siamo di immagine di Dio secondo la mente ora il nostro intelletto non conosce se stesso se non perché conosce le altre cose dunque Dio non conosce le altre cose non passa attraverso la materia quindi non possiamo definirlo come ente che conosce se stesso dunque neppure Dio conosce se medesimo se non in quanto eventualmente conosce altre cose mi pare che dopo che abbiamo definito con molta chiarezza la natura vedete che le cose poi seguono con naturalezza visto che abbiamo già definito con chiarezza la natura divina degli articoli precedenti queste risposte diciamo sono abbastanza evidenti terzo conseguentemente il nostro intelletto possibile non può avere operazioni intellettuali se non in quanto è perfezionato dalla specie intellegibile da qualche oggetto cioè noi abbiamo tensione la materia prima che è un'entità potenziale ma la materia prima nella prospettiva del senso è potenza come è potenza l'intelletto possibile quindi l'intelletto possibile e la materia prima si trovano in un apporto di analogia materia prima nell'ordine perché è potenza rispetto agli oggetti intellegibili non so se ho reso l'idea materia prima non esiste ha bisogno di una forma che la informi per concretizzarsi per realizzarsi quindi è potenziale è potenziale come l'intelletto possibile e l'intelletto possibile anche questo se non ha le forme presentate di intelletto attivo è vuoto è una tabula rasa conseguentemente il nostro intelletto possibile non può avere operazioni intellettuali se non in quanto è perfezionato dalla specie intelligibile di qualche oggetto ma non è la stessa condizione di Dio Dio invece è atto puro non c'è nessuna potenzialità in Lui nell'ordine dell'esistenza quanto nell'ordine della conoscenza quindi anche questa terza osservazione decade in automatico d'altra parte San Paolo ci dice le cose divine nessun altro le sa fuorché è lo spirito di Dio mi pare che ormai la prospettiva è chiara Dio è Lui che conosce in modo perfettissimo anche nei segreti più profondi se stesso Dio conosce se stesso per mezzo di se stesso non avendo Dio niente di potenziale e questo è già stato dimostrato ma essendo atto puro è necessario che in Lui intelletto e oggetto inteso siano completamente l'identica cosa ecco di nuovo che ritorniamo alle dimostrazioni precedenti non ci sono distinzioni non c'è pluralità in Dio come abbiamo detto non è che Dio imparte sia sapienza imparte giustizia imparte misericordia imparte no il tutto in Dio si unifica così vale per l'intelletto attivo passivo oggetto soggetto in maniera cioè che né Dio manca della specie intellegibile come accade al nostro intelletto quando è in potenza cosa possiamo fare noi grossi problemi hanno purtroppo i sordomuti o i ciechi c'è chi è cieco sordo e muto senza i sensi la difficoltà di conoscere attraverso una un sistema di cose che manca dei mezzi poi il tatto può in qualche modo subentrare se sono scoperti dei sistemi alternativi che possono in qualche modo sostituire in parte i sensi mancanti però voi capite che la conoscenza rimane sempre parziale molto difficile né la specie intellegibile è cosa distinta dalla sostanza del divino intelletto perché abbiamo detto che è un'essenza che implica l'esistenza come avviene per la nostra intelligenza quando è in atto ma l'unica specie intellegibile è la stessa divina intelligenza quindi Dio in Dio c'è scienza e Dio conosce in modo se stesso e in modo perfettissimo di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio